Allora, questa sera, come diceva Ilaria, continuiamo con il ciclo dedicato alla costituzione occulta dell'uomo e della donna e in particolar modo ci soffermeremo a dare qualche spunto di riflessione su quelli che sono i famosissimi chakra. Io penso che ognuno di voi almeno una volta nella vita abbia sentito questo termine chakra, un termine coniato, utilizzato per lo più nella tradizione orientale, in particolar modo quella indiana, ma che in realtà si riferisce a un qualcosa di cui questa sera parleremo, conoscitissima anche in occidente, tra l'altro sin dalla notte dei tempi. Oggi comunemente il termine chakra viene trasposto nel termine centro di forza o centro di coscienza. Allora, che cosa sono i chakra? Abbiamo detto un termine conosciutissimo, ma allo stesso tempo anche molto misterioso. Ho notato che spesso tutti noi appunto conosciamo questi chakra, questa sorta di ruote infuocate luminose, no? Che si vedono spesso lungo l'asse spinale della persona e che si riferiscono a delle facoltà sicuramente non utilizzabili o visibili con il corpo fisico, ma poi ci si ferma lì di solito, non ci si chiede spesso da dove provengono, quindi come si formano, che cosa sono, ma soprattutto a che cosa servono, come possono essere utilizzati. Ecco, allora noi questa sera proviamo a dare qualche spunto di riflessione proprio su questi aspetti, da dove derivano questi chakra e soprattutto a cosa servono e se noi possiamo utilizzarli anche, in che modo adoperarli. Allora, per fare questo piccolo approfondimento, questo spunto di riflessione, io vi propongo questa sera di iniziare con un motto noto molto all'alchimia medievale, il motto del vitriol, come potete vedere appunto riassunto in questo simbolo, riportato nella slide. Vitriol, una parola anch'essa un arcano misterioso che è l'acronimo di visita interiore terre, rettificando in bene e socculta l'apide, che tradotto in italiano significa visita le interiorità della terra e rettificando troverai la pietra nascosta. Quindi a che cosa rimanda questo motto? A quello di intraprendere un viaggio, una visita, una scoperta, che è un po' il light motive che vi stiamo proponendo con questo piccolo ciclo di tre approfondimenti, a visitare, a indagare la parte più nascosta, l'occulta terra, l'interiorità della terra, la nostra interiorità, la nostra coscienza di cui spesso non conosciamo nulla. Questo motto che veniva tramandato da questi antichi alchimisti medievali, ma un po' da tutte le tradizioni esoteriche occidentali orientali, invitava lo sperimentatore a effettuare questo viaggio nella profondità del proprio io più vero, più profondo appunto, e lì sicuramente avrebbe fatto una scoperta strabiliante. Non c'è la desolazione, non c'è un deserto, non è una caverna buia, oscura e misteriosa, ma lì è possibile rinvenire, ritrovare una luce. Ecco della scintilla divina che poi anima ogni ciascun individuo, ogni uomo e ogni donna. Questa luce divina, questa scintilla, è poi alla base, come abbiamo visto la volta precedente, anche di quella che caratterizza la parte immortale dell'uomo e della donna, quella che genericamente viene tradotta con il termine di anima e che, come ci hanno detto Ilaria e Giulia la volta precedente, in realtà andrebbe approfondito perché assume una forma tripartita, assume una struttura ternaria. Ci hanno parlato infatti di tre principi che costituiscono la parte più profonda dell'uomo e della donna, chiamati io vero, chiamati oppure ego, che sono costituiti, come abbiamo visto, dallo spirito, dall'anima emotiva e dall'anima eros dinamica. Quindi delle luci di origine divina. Tant'è che il fondatore dell'associazione archeosofica, Tommaso Palamidesi, definisce proprio questa parte più profonda una luce rivestita da luci. Ecco, io credo che questa sia un'immagine molto bella ma anche molto esplicativa. Una luce che ha un'affinità, un'assonanza, un'analogia con la luce divina che Dio, a prescindere dal nome che noi gli vogliamo attribuire, utilizza per creare il cosmo. Un po' tutte le cosmogonie e le teologie parlano della creazione iniziale per mezzo di una vibrazione o di un suono o di una luce, o travolta tutte e tre le cose insieme. Per esempio nel Genesi c'è il famoso Fiat Lux, sia la luce. Anche nel Corano c'è un versetto simile, si dice Kuntunur, appunto sia la luce. Quindi come a dire che la luce è questo mezzo con il quale Dio colpisce una materia indifferenziata, uno stato caotico e da esso poi trae l'origine del cosmo e dell'universo. Però ora, senza entrare troppo nel dettaglio di questo argomento, di questa dottrina, di questa luce, di questa sostanza primordiale è composta anche l'anima dell'uomo. Ora, una luce, come diceva appunto Palamidesi, luce rivestita da luci. Abbiamo detto l'altra volta che questa struttura immortale dell'uomo assume una struttura trinitaria, gli abbiamo dato questo nome, spirito, anima e anima erosmotiva, non è una dottrina coniata per la prima volta di recente, è antichissima. Gli ebrei parlavano di Neshama, di Nefesh e di Ruah. Anche San Paolo e quindi i cristiani della prima ora distinguono la parte immortale dell'uomo in pneuma, in psuche e in soma. E questo poi si ritrova anche nell'Islam, in particolare quello esoterico, nell'antico Egitto. Tutta la struttura immortale dell'uomo ha un'apparenza trinitaria, ternaria, perché in realtà sarebbe appunto l'immagine, fatta immagine e somiglianza del Dio creatore che si manifesta per la prima volta nel creato sotto forma trinitaria. Questa non è solo una dottrina cristiana. Sì, nel cristianesimo raggiunge uno dei più alti dogmi, ma sarebbe interessante approfondire questa faccenda, un ego della trinità si ritrova in tutte quante le religioni e le tradizioni antiche. Siccome questa parte immortale dell'uomo che noi abbiamo chiamato ego, io vero, basato appunto su questa struttura trinitaria, è fatta che essa interagisca con i vari piani, i vari mondi, da quelli più sottili, rarefatti, fino al mondo fisico. Ha bisogno di un veicolo per esprimersi, perché la sostanza che compone il mondo nei vari piani è una sostanza differente da quella che costituisce la nostra parte immortale. Ecco che allora l'anima più profonda dell'individuo utilizza un corpo, un veicolo, ne hanno parlato Giulia e l'area la volta precedente, a cui abbiamo dato il nome di corpo causale. Allora immaginate il corpo causale come una sorta di capsula, capsula spaziale, dice Palamidesi, che riveste l'ego, quindi che riveste la parte più profonda dell'individuo. Quindi permette alla nostra parte immortale di esprimersi e di interagire con i vari piani dell'universo. La riveste, ma ovviamente la limita anche, è una limitazione. Ecco perché poi sarebbe importante andare a migliorare la materia, la sostanza del corpo causale, ma di questa cosa poi ce ne parlerà in particolar modo Francesco nel prossimo incontro. Quindi dicevo che l'io vero si riveste di questo corpo fisico e poi di successivi altri corpi, fino a quello fisico che noi oggi qui possiamo vedere e utilizzare, tant'è che per esempio il corpo fisico noi come interagiamo con il mondo, con le persone, con le cose? Attraverso i cinque sensi. Noi grazie ai cinque sensi abbiamo percezione di quello che succede attorno e interagiamo con l'ambiente. L'ego fa la stessa cosa grazie a tutti questi vari corpi successivi, gerarchicamente ordinati. L'abbiamo visto l'altra volta, il corpo causale, il corpo mentale inferiore, l'astrale, l'eterico, fino al corpo fisico. Ecco quindi che anche l'ego in questo senso utilizza dei sensi che non saranno fisici, ma dei sensi spirituali. Ecco questi sarebbero proprio i chakra, ovvero i centri di forza e di coscienza. I sensi spirituali con i quali la nostra parte più immortale può interagire con i vari piani del cosmo, dell'universo. Questi chakra, li avete visti sicuramente, ma si vedono anche nelle immagini, spesso vengono raffigurate come delle ruote luminose, infuocate, in movimento. Perché assumono questa caratteristica? Perché voi dovete un po' immaginare che due materie di natura differenti, ovvero la materia che costituisce il corpo che riveste l'ego e l'ego stesso, essendo di natura differenti, nella loro interazione si crea qualcosa di particolare. Dovete immaginare, per esempio, se voi soffiate su uno specchio, su una superficie marina, il vostro soffio è stato gassoso, mentre la superficie marina ha lo stato liquido. Dall'interazione di queste due materie che assumono uno stato differente, nascono dei vortici. Voi non vedete il soffio, però vedete l'effetto del soffio sulla superficie. Ecco immaginate i chakra proprio in questo modo, l'interazione dell'ego con il corpo causale genera dei vortici. Questi vortici poi le varie tradizioni li indicano con numeri differenti talvolta, per chi tre, per chi sette, per alcuni dodici, altri ventiquattro, quarantotto. Però sicuramente i centri di forza principali codificati, comuni a tutti, sono i famosi sette chakra o sette centri di forza, di cui noi questa sera abbiamo qualche piccolo approfondimento. Dicevo, una dottrina comune a tutte le latitudini, tutte le longitudini e anche nel tempo. Per esempio, nell'antica tradizione segreta di Israele, la Kabbalah, conosciuta con il nome di Kabbalah, questi centri di forza venivano chiamati ofanim aur, ovvero ruote infuocate. Vedete, anche qui c'è questo rimando a questo archetipo, a questa caratteristica dei centri di forza che assumono una forma e degli attributi ben precisi. Ora, senza entrare chiaramente nei dettagli molto interessanti, però per chi fosse interessato possiamo anche fermarci a farlo. Gli ebrei kabbalisti poi affermavano l'esistenza e alcune corrispondenze di questi centri di forza proprio con quelle divine energie increate attraverso le quali Dio crea l'universo. E quindi, come potete vedere nella slide, ogni centro di forza che si trova nell'uomo ha una corrispondenza con un corrispettivo centro dell'albero sefirotico, che è questa figura che voi vedete nella slide nella parte destra. È solo uno spunto di riflessione, non entriamo troppo nel dettaglio. Tradizione orientale, in particolar modo quella indiana, conosciutissima, come si diceva all'inizio, i famosi chakra, anche qui, vedete, assumono queste forme, queste ruote. All'interno sono anche identificati dei simboli, dei mandala, di cui poi faremo un piccolo approfondimento tra pochissimo. Ma anche nel cristianesimo è conosciuta questa dottrina. Pensiamo al vescovo Gregorio di Palamas, che appunto codifica la dottrina delle sefirot adattandola alla tradizione cristiana e anche per i cristiani della prima ora e per i cristiani esoterici esiste una corrispondenza tra i centri di forza dell'uomo e le ferite di Cristo sulla croce. Quindi ogni ferita rappresenta idealmente un centro di forza che a sua volta corrisponde poi anche per i cristiani a questo famoso albero sefirotico della tradizione cabalista ed ebraica. Gli alchimisti, con il loro linguaggio segreto e cifrato, ci hanno parlato anche loro dei centri di forza. Ne aveva parlato, mi ricordo, Francesco qualche mese fa in un incontro dedicato all'alchimia. Loro hanno codificato l'esistenza di questi tre principi che caratterizzano il composto immortale umano con i tre elementi del solfo, del mercurio e del sale. Spirito, anima ed eros equivalgono in quest'ordine a questi tre elementi. Allora cosa faceva l'alchimista? L'alchimista cercava di combinare in particolar modo di unire, di utilizzare il mercurio con il solfo dopo aver trasmutato il sale in salnitro e da questa combinazione poteva produrre l'oro, partendo dai sette metalli. Bene, questi sette metalli, con tutte delle corrispondenze anche planetarie, di cui poi qualcosa diciamo sul finire del nostro incontro, potevano essere trasmutati appunto in oro. Il famoso detto trasformare il piombo in oro. Farimento proprio alla capacità e alla necessità di attivare questi centri di forza, dinamizzarli, sono centri di forza, quindi vanno dinamizzati per prendere coscienza o acquisire delle facoltà, ma in generale attuare una trasmutazione di tutto il composto umano. E ora vediamo anche perché è possibile farlo tramite i centri di forza. Però finiamo questo escursus storico, diciamo così. La tradizione arriva poi anche nell'Occidente Rinascimentale e successivo nel diciassettesimo secolo. Questa è una famosissima, una delle quattro tavole del Gipte, non so se si pronuncia così, chiedo scusa, ma io sulla lingua tedesca non sono molto ferrato. È una delle quattro tavole che si ritrova in un'opera che si chiama Teosofia Prattica, in cui appunto questo studioso che non ha avuto nessun contatto con il mondo orientale, anche egli parla di questi centri, li descrive come, vedete, delle ruote luminose con dei propri colori associati ciascuno a dei pianeti. Ma anche la tradizione islamica, in particolar modo quella esoterica, sufi, parla dei cosiddetti la taifa, ovvero dei centri di forza, sette centri di forza, ognuno associato a un colore, anche in questo caso a un pianeta, e poi loro chiaramente le associano ai sette grandi profeti, Abramo, Gesù, Adamo, tutti quelli che per la tradizione islamica sono dei grandi profeti. Allora, dicevo, questi centri di forza però, ecco, un po' in tutte le tradizioni hanno delle analogie, vuoi con dei colori, con dei pianeti, con delle scritte, con dei nomi di forza, o logodinami di cui ora andiamo a trattare, delle figure geometriche, hanno degli attributi. Quindi significa che tutto il cosmo, tutto l'universo, e quindi anche noi, il composto umano, ha delle equivalenze con questi centri di forza. Quindi andando ad agire su questi centri di forza, io posso acquisire o risvegliare gli attributi corrispondenti a ciascuno dei chakra. Perché è possibile farlo? È possibile farlo? Innanzitutto sarebbe necessario farlo perché, come vi dicevo, uno dei termini utilizzati è centri di forza o di coscienza. Significa che andando ad agire su questi centri possiamo migliorare o risvegliare o attivare la nostra coscienza. Ora, io penso che siamo tutti d'accordo nel dire che la nostra coscienza è incernierata, se non ingabbiata, sul piano fisico. Cioè, noi siamo sempre qui presenti, solo qui. Per esempio, andiamo a dormire, l'altra volta Giulia ci hanno parlato, che cosa succede quando si va a dormire? Si ha questo sdoppiamento progressivo per cui la coscienza abbandona il piano fisico e va su altri piani, altri livelli, diciamo così. Cosa succede? Boh, cioè, nel senso, non ci ricordiamo quello che abbiamo fatto durante le cinque, sei, sette, otto ore che abbiamo dormito. Se ci va bene, ci ricordiamo qualcosa, qualche sogno. Ma tutto il resto del tempo, noi dove siamo? Chi c'è lì? Siamo noi? C'è qualcun altro? Sono delle domande interessanti da porre. Noi dove siamo? Perché non siamo coscienti. Perché la nostra coscienza, allo stato attuale, è ben strutturata, capace di essere vigile soltanto se presente sul piano fisico. Allora, in realtà, sarebbe possibile sviluppare un continuum della nostra coscienza anche sugli altri piani. Com'è possibile farlo? proprio grazie a questi centri di forza, che sono come una sorta di porte, di canali, che dal piano fisico ci portano fino al piano più elevato, fino al corpo causale e oltre, fino, cioè, a permetterci di entrare in contatto con quella che è la nostra parte più profonda, l'io vero, l'ego, prendere contatto con la nostra parte reale, immortale, in piena continuità di coscienza. Sono delle porte, quindi servono delle chiavi per poterle aprire. Ci sono delle tecniche che vengono tramandate, appunto, di secolo in secolo, a volte anche in modo misterioso, sconosciuto da bocca a orecchie. Però, per fortuna, oggi, grazie anche alla scuola archeosofica e all'opera di Palamidesi, queste tecniche ci sono riportate in tutta una serie di testi. In particolar modo, io vi consiglio la lettura di un testo che si chiama Tecniche di risveglio iniziatico, in cui proprio Palamidesi insegna come partire e adoperare il risveglio, l'attivazione, la dinamizzazione di questi centri, di questi chakra, per poter acquisire anche delle facoltà e migliorare la nostra coscienza, fino a livelli quasi inimmaginabili. Perché bisogna partire su questo piano? Per due motivi. Perché, abbiamo detto, questi chakra sono come delle porte che dalla parte più profonda del nostro composto arrivano fino sul piano fisico. Che significa sul piano fisico? Significa che questi centri regolano tutto il sistema ormonico, in particolare le ghiandole endocrine, cioè quelle che secernano i loro umori e gli ormoni direttamente nel sangue o nei fluidi dell'individuo. Ogni centro di forza ha una corrispondenza con queste ghiandole. Per esempio, il centro frontale, il più famoso, il famoso terzo occhio, ha una corrispondenza con la ghiandola pineale. Perché? Perché sono una sorta di terminale fisico di questi centri di forza, dei chakra. Per cui andando ad agire in prima battuta su questi chakra, attraverso delle tecniche e una meditazione di cui ora andiamo ad esporre, è possibile in primo luogo, subito, già trarre dei benefici già solo dal punto di vista biofisico. Perché queste ghiandole iniziano a lavorare, lavorano bene, quindi riequilibrano tutto il composto umano, secernano i loro ormoni in modo regolare e questo è acclarato, è un dato di fatto. Anche oggi la scienza riconosce i benefici, per esempio, della meditazione, che ha tutta una serie di vantaggi, di poteri curativi, eccetera. Ma l'altro motivo per cui bisogna necessariamente partire da qui, dal mondo fisico, è che il mondo in cui noi ci troviamo è il mondo dell'azione. È un concetto che avevano accennato Ilaria e Giulia la volta precedente, cosa vuol dire? Che tutto, che noi possiamo avviare qualsiasi processo solamente qui, non nel sonno, per esempio, mentre dormiamo. Lì subiamo, non possiamo fare nulla, ma sul piano fisico possiamo avviare qualsiasi opera, qualsiasi impresa. Ecco che bisogna partire da qui, ma lo diceva anche Giordano Bruno quattro secoli fa, quando parlava di ombre delle idee da cui partire per recuperare la memoria di Dio. con una serie di tecniche di meditazione, dei sigilli che lui proponeva, che ricordano anche i mandala associati a questi centri di forza. Allora, come bisogna fare? Ci sono vari accorgimenti da utilizzare per cimentarsi nella pratica, per riattivare i nostri centri di forza, che Palamediesti tra l'altro tratta nel secondo libro, nella seconda parte, scusatemi, di questo testo, che ripeto si chiama Tecniche di risveglio iniziatico. Lui dà tutta una serie di accorgimenti per cimentarsi in questa meditazione sui centri di forza. La prima cosa su cui fare attenzione è la respirazione. Poi vedete in quell'immagine, no? Ogni centro di forza è come presente all'interno di questi due canali che si incrociano. Questi canali vengono chiamati dalla tradizione indiana Ida e Pingala. Sono due canali, uno positivo, l'altro negativo, uno maschile e l'altro femminile. Detti anche i due serpentini, i canali dei serpentini, per esempio la tradizione egiziana o quella greco e quella romana, li identificano con questo simbolo, il famoso caduceo di Ermete. Bene, cosa vuol dire? Che in questi canali circola l'energia vitale, il prana, questa cosa anche l'abbiamo vista l'incontro precedente, che viene proprio dinamizzata, diffusa, attuata, purificata grazie all'azione dinamica di questi centri di forza che poi la distribuiscono in tutto il composto umano. Come si fa? In primo luogo andando ad agire sulla respirazione, perché la respirazione ha, andando, ora non entriamo nel dettaglio, però ha degli effetti diretti sul sistema simpatico e parasimpatico, sul nervo vago, permette appunto di attivare questa energia biofisica presente in ciascuno di noi. Quindi ogni centro di forza presenta un tipo di respirazione, una triangonale, una quadrata, sono tutti nomi che, se per chi vuole poi approfondire le tematiche, trova nei fascicoli della collana archeosofica. Ecco, quindi è possibile innanzitutto partendo dalla respirazione. Poi anche da una corretta posizione. Palamedessi consiglia varie posizioni, ma ce ne sono anche altre probabilmente più adatte all'uomo occidentale, penso alla posizione del faraone o del trono o del fulmine. Ecco, tutta una serie di posizioni che permettono anche una corretta postura, sicuramente, un allineamento di quella che è l'asse spinale sul quale insistono questi centri di forza e anche facilita proprio la respirazione. Queste posizioni facilitano la respirazione. Cioè la capacità di andare a interessare tutta la gabbia toracica, non la parte superiore o quella mediana o soltanto quella inferiore, come capita nella maggior parte degli individui che utilizzano solo una parte della gabbia toracica, andarla a interessare tutta per migliorare la respirazione, aumentare la capacità polmonare, aumentare i tempi di trattenuta che poi influiscono sul tipo di respirazione da utilizzare. Altro ausilio importantissimo è quello di ricorrere a dei mandala, ovvero delle figure geometriche particolari e anche all'utilizzo delle parole di forza. Allora, se io vi dico aum, sono sicuro che tutti sapete di che si tratta. Ecco, il famoso suono che noi attribuiamo alla tradizione orientale, in realtà è un suono antichissimo, coniato già dagli ebrei con la parola forza aum. Però andiamo con ordine. Cosa sono questi mandala? Sono delle figure geometriche, vedete, io vi ho riportato vari esempi, questo è tipico della tradizione orientale, questi sono i famosi sigilli ermetici che ad esempio riporta anche Giordano Bruno, questo è arabo, quindi della tradizione araba, questo è della tradizione ebraica che viene poi anche ripreso dalla scuola archeosofica. Sono delle figure, non significa che i centri di forza sono così. Però, per il tipo di vibrazione associata a ogni centro di forza, per un discorso per cui non entriamo troppo nel dettaglio, ecco che esistono delle figure che facilitano la convibrazione con quello specifico centro di forza, per tutta una serie di ragioni. Associate a queste figure ci sono anche dei colori, quindi ogni centro di forza presenta delle sue caratteristiche, dei suoi attributi, dei suoi colori. E come vi dicevo prima anche delle parole forza o logos dinami, che significa appunto dal greco parola forza. Sono dei nomi divini, come l'om della tradizione tibetana, che permettono anche come mandala in questo caso di entrare in risonanza immediata con il centro di forza prescelto. Tra l'altro c'è anche tutto un altro discorso per il quale è importante affidarsi a chi ne sa più di noi. Ecco, quindi questi nomi divini ci permettono di entrare anche in risonanza, in contatto con delle realtà superiori sicuramente alla nostra limitatezza e quindi andare ad agire direttamente su questi centri. Vi ho riportato qualche piccolo esempio, appunto questo è il centro associato al centro cardiaco, questo è il centro associato a quello della gola, il centro della gola è importantissimo. Pensate il canto santificante, l'arte sacra del canto che era conosciuta in tutti i circoli misterici e iniziatici dell'antichità e del passato. È importantissimo, intonare dei canti particolari sacri permette appunto l'attivazione, il risveglio di questo centro, il centro della gola. E poi il famosissimo centro frontale o terzo occhio. Vengono riportati solamente tre, vi invito poi all'approfondimento di tutti quanti gli altri centri. Perché è importante questo approfondimento? Perché come poi fa anche Palamidesi nella terza parte di questo testo, che si chiama tecniche di risveglio iniziatico, lui descrive per ogni centro le figure geometriche associate, cioè i mandala, le parole di forza da utilizzare, i colori con i quali appaiono, le caratteristiche, gli attributi, ma anche le facoltà che, andando ad agire su questi centri di forza, è possibile andare a risvegliare. Per esempio, il centro frontale, una su tutte, permette la veggenza, quindi l'intuizione. Per esempio, noi stiamo facendo il laboratorio di astrologia, per chi si approccia a questa scienza, l'intuizione è fondamentale. Ecco, allora, se io vado a sviluppare, a fare quest'opera di meditazione sul centro frontale, mi viene molto più semplice. Intuisco le cose senza alcuno sforzo, senza essere necessitato a ragionarci sopra. Il centro frontale ha origini anch'esso antichissime, nel senso che è conosciuto da tutte le tradizioni, il famoso terzo occhio, no? Penso che ne avete sentito parlare un po' tutti. Tipico della tradizione orientale, indiana, ma è antichissimo. Pensate, questo centro ha una corrispondenza con la ghiandola pineale. Il nome deriva proprio da pigna, perché questa ghiandola assume questa forma, ha questa forma di pigna. E anche nella tradizione cristiana è presente. Per esempio, questa è la Vergine Nera di Rocamadur, che ha in mano, sul grembo ha il bambino Gesù, che tiene nella mano sinistra una pigna. Cosa c'è? Perché è associata al risveglio di questo centro particolare. In Egitto i faraoni venivano raffigurati con l'ureas, o ureas, non so come si pronuncia sinceramente, il serpente che veniva posto proprio all'altezza del terzo occhio. Il serpente è il simbolo della saggezza. Ora può essere intelligente, positiva divina o decaduta, però ecco, il serpente indica la saggezza in generale. Posto sull'occhio del faraone fa proprio un rimando alla necessità e alla possibilità di attivare questo centro frontale. Ma anche nell'iconografia è conosciuto, per esempio, la perla delle vergini, delle madonne e dei santi viene proprio associata a questo centro particolare. Questo è il centro cardiaco. anche in questo caso troviamo tutte le informazioni nei fascicoli, nei testi della collana archeosofica. Anche questo sarebbe, non so se dico un'eresia, però sarebbe il centro fondamentale, quello più importante da attivare, perché associato al mercurio degli alchimisti è proprio lì che si svolge la battaglia spirituale di ciascun individuo. Comunque, un centro fondamentale, pensate già solo al simbolismo del cuore presente in tutte le tradizioni, orientali, occidentali, cristiana, musulmana, anche nei romanzi del Graal. Il cavaliere perfetto può vedere il Graal soltanto se ha il cuore puro. Ecco, è un simbolismo molto molto importante. E qui vi ho riportato tutta una serie di mandala, il monogramma di San Bernardino, che è questo qui, e vari sigilli della tradizione orientale ebraica ed altre. Un ultimo accenno al centro coronale, quello definito anche da alcuni testi il superno, la corona, il più importante. Quello che si è attivato, come dice anche Palamidessi, cosa dona? La conoscenza integrale, la veglia perenne. Tant'è che viene equiparato al simbolico numero di mille raggi, bianchissimo, lucente, di colore adamantino. È un centro che noi vediamo, credo, quasi ogni giorno, ci passa sotto gli occhi, nel senso che la sua rappresentazione, per esempio, è rappresentata nell'Aureole dei Santi, oppure di Buddha, di Cristo, la corona appunto dei beati, di chi segue un certo percorso indicato dai maestri, dei grandi maestri del suo tempo. Ecco, questa famosa Aureola fa proprio d'oro, fa proprio riferimento a chi ha compiuto la grande opera degli alchimisti e ha risvegliato anche questo centro frontale. Però io prima vi ho detto che ogni centro è anche associato... Oddio, ho staccato il microfono. Ogni centro è anche associato a dei pianeti. Ad esempio, sul centro cardiaco, Palamidessi ci dice che è associato ai pianeti Venere, Giove, Nettuno, oppure ai segni del Sagittario, dei pesci, alla terza casa. Ci dà delle informazioni astrologiche. Quindi, oltre a utilizzare una corretta respirazione, una posizione, un'iconografia specifica, delle parole forze, posso anche cimentarmi in queste pratiche andando a osservare proprio nel cielo i momenti astrologici in cui, ad esempio nel caso del centro cardiaco, Giove, Venere o Nettuno si trovano in posizioni armoniche, oppure si trovano in quei segni zodiacali o in quelle case indicate. Quindi è possibile anche sfruttare l'esistenza nel cosmo di delle posizioni favorevoli che permettono una facilitazione, ma anche un'accelerazione della dinamizzazione di questi centri di forza e di coscienza. Perché, come anche dicevano gli ebrei kabbalisti, questi chakra hanno poi una corrispondenza con queste divine energie increate, con tutte le forze che animano e che muovono il cosmo, tra cui anche le forze cosmiche planetarie. Ecco, quindi è importante anche per chi vuole approfondire questo discorso poter sfruttare anche queste posizioni per andare ancora ad accelerare ulteriormente il risveglio. Come vi dicevo, tutte queste informazioni sono in generale riportate dai testi della collana archeosofica. Qui abbiamo posizionato, si può dire, posizionato alcuni fascicoli anche dell'attuale presidente dell'associazione che è Alessandro Benassai, i centri di forza, teorie evoluzionistiche, aure energetiche e centri di forza, il quaderno sul risveglio e sviluppo dei centri di forza. Vi ho parlato del testo tecniche di risveglio iniziatico, per chi poi vuole fare anche quell'approfondimento sulla parte astrologica, io consiglio elementi di astrologia esoterica di Alessandro Benassai. Quindi, insomma, di materiale ce n'è per poter prima approfondire e poi mettersi in pratica o farlo anche contemporaneamente, perché no? Ecco, quindi l'invito è questo, di, per chi questi argomenti gli interessano e ne sono attirati, di andare a cimentarsi direttamente in queste tecniche, in queste pratiche, per andare a risvegliare e a dinamizzare, ma soprattutto a riscattare e aumentare quella che è la propria coscienza. Questo è un discorso che ha le gambe molto lunghe, perché il punto poi alla fine qual è? Che la nostra esperienza, l'esperienza degli uomini e delle donne è limitata ai e dai sensi fisici. La nostra esperienza si ferma lì. Non riusciamo ad andare oltre a quello che i nostri sensi ci danno. Quindi pensate se riuscissimo a utilizzare dei sensi spirituali come sono poi chakra. Quindi riusciremo veramente a entrare in contatto con la nostra parte più profonda e anche a esplorare, a interessare tutti quelli che sono i piani, in modo integrale, i piani che costituiscono il cosmo e l'universo in cui noi ci muoviamo. Quindi, come vi dicevo, avrebbe le gambe insomma veramente lunghe questa dottrina legata ai chakra.